Una volta creato e pubblicato il sito web, è necessario eseguire alcune operazioni per far sì che il sito venga indicizzato, tipo impostare i dati SEO per l'intero sito web. Per iniziare, clicca sulla prima icona del menu superiore, poi su Impostazioni sito, seleziona Condizioni del sito web e SEO. Inserisci le informazioni relative al sito che possono aiutare i motori di ricerca nell'indicizzazione, ad esempio il titolo del sito web che sarà visibile dai motori di ricerca, la lingua dal menu a tendina. Aggiungi una descrizione del sito, anch'essa utilizzata dai motori di ricerca. Inserisci le parole chiave relative al contenuto del sito, separate da virgole. È importante pensare a tutte le parole chiave che gli utenti potrebbero digitare quando cercano l'attività in questione, l'oggetto del sito o i prodotti presenti in esso. Ed infine, la funzione Disabilita compressione immagini permette di scegliere se disabilitare o meno la compressione delle immagini, così da ridurre i tempi di caricamento del sito web o di aumentare la qualità delle immagini del sito. Clicca su Salva per confermare le modifiche.